Ciao, ma tu ci giochi a Remo? Io sì, io ci gioco Cioè, ce l'ho Io ci gioco tantissimo Cioè, ci giocavo tantissimo Sei forte? Sì, abbastanza Allora, Luca, Luca, mi vieni a difendere, Luca No, no, Luca, devi difendere, Luca, ci stanno sbando tutti Va bene, grazie Grazie, Luca 10-11 Ma tu, ci sono tutti delle galline attuali Quanto nuova Che squadra c'è, tu, Agni? Blu Zerbian, sì, ti conosco, Zerbian Non credo sia tu sia quello vero Zerbian Zerbian C'è Zerbian Ah, ok, ma sì, sì, non so se ricorda Vai, 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 vai No, no, no Comunque certo che ti conosco, Zerbian Ma sto gioco ogni volta che io ci gioco al comune Regà, ma è Zerbian quello vero Regà, è Zerbian quello vero Te lo giuro, vai a vedere il canale, guarda, vai a vedere il canale Solo in video No, ma stiamo in serio? Non ci credo che sia in video Non ci credo Wadii 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 No, regà, ne è possibile Ma che cazzo No, dai, scrivi ancora, se sei veramente Allora No, scrivili, scrivili tu, scrivili tu Dili se è quello vero Il nome è quello, di soldo non si può accusare e sto vendendo la scritta aspetta no no aspetta 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 erro poi a aspetta aspetta ci sono nella villa no fa è quello vero cosa sta succedendo no mi sta venendo un colpo se è quello vero e non è vero io adesso sveggo aspetta 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 fammi calma la chiamata il 118 no raga adesso sveggo e lo devi cercare perché non non te lo fa più l'anno levato la cosa che c'è no raga la scritta nome è un guassimo a figo che sei un capo capito ma secondo me è un troll noi in casa non si vuole entra l'incredibile se ritrova l'uscita non sono con capo non ha mai detto non capo e con crisi aspetta 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 ma sai che sai cosa gli chiedo forse una domanda difficile no dai non è vero z no aspetta mi sta trovando ma sei ma esce domani il video quello è con crisi in effetti crisi sta nella villa lo so lo so no ogni misura non colpo se quello vero no è un troll è un troll entrò l'epico finito male era scritto ci sto no speculo vero ma do io giuro che svengo ma dopo tu vuoi andare a vedere chi ha vinto il livello in teoria vuoi andare a vedere i canali proprio eh in teoria si oh scrivile scrivile salutaci su instagram salutaci su instagram fallo vedi non lo fa se l'ho fatta vedere non lo fa e una sorella salutaci in che senso di fra devo fare 17 anni e una sorella in che senso su che senso non ho capito scusa è una sorella fra devo fare 17 anni allora 17 anni è vero oh vabbè si ti aspetta che vuol dire cioè lo so che hai una sorella che vuol dire è una sorella ha una sorella si si chiama sarà lo so lo so lo so io lo so io le ho scritto salutaci su Instagram ma non le palle o una sola lo so che è una sorella lo so lo so c'è ti sei volti sì io lei ti potrebbe rispondere teorese quello vero ti sei volti stiamo la vera no dai ragazzi pezzo settimana salutaci ma non è vista cavolate sì beccato che entra in live ma che Il canale è quello, la foto è quella Raga, 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 raga messo una storia È fake dai, è fake perché non credo che una persona come lui va a chiedere le donazioni Raga, è fake, è fake Cioè comunque io non voglio che mi salio di su Insta, a me non mi frega niente Eh vabbè dai, che trollepico L'ha scritto, l'ha scritto Che trollepico Che bastard Ma poi, aspetta, no vabbè ma come hai fatto a mettere il nome uguale, ora me lo spieghi Come hai fatto a mettere il nome uguale? Perché se metti il nome uguale non te lo dà Eh, come hai fatto a mettere il nome uguale? Scrive, non scrive Cioè si dice che questo il nome è già in uso Ma pure l'immagine, ma pure l'immagine a me Ciao, saluto YouTube